Ci possiamo fidare delle stablecoin? Scommetto che è una domanda che anche tu ti fai più spesso ultimamente. La domanda è lecita, dopo quanto è successo a UST viene da chiedersi, ma può succedere anche con le altre di stablecoin? Ma soprattutto, magari se uno è anche più curioso e vuole capire, vorrà interessarsi alle dinamiche che stanno dietro alle singole specifiche stablecoin? Perché ce ne sono di varie categorie. Nel video di oggi le andiamo a esaminare tutte una a una. Vediamo come funzionano, che differenze ci sono tra l'una e l'altra, ma soprattutto quali sono i rischi di ciascuna categoria di stablecoin. Al fine di porci la famigerata domanda che è quale è la più sicura e la meno rischiosa tra tutte, alla fine di questo video lo capirete. Vi lascio anche due o tre slide che ho fatto per aiutarmi anche a esprimere alcuni concetti, che potete scaricare gratuitamente col link che trovate in descrizione. Ora basta chiacchiere e tuffiamoci ad esplorare le varie categorie di stablecoin e i loro rischi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi parliamo di stablecoin e inizio facendovi una domanda. Ovvero, voi quando parcheggiate capitale in una stablecoin, quale scegliete, quale scegliereste, quale ritenete insomma meno rischiosa e perché? Fatemelo sapere nei commenti così ci confrontiamo. Il video di oggi ha proprio lo scopo di capire dove stanno i rischi in ogni categoria di stablecoin, perché ce ne sono tante di categorie. E vedremo innanzitutto quali sono, come funzionano, quindi quali sono le caratteristiche di ognuna di queste categorie e chiaramente i rischi associati. Seguitemi perché è molto importante. Partiamo proprio dalle caratteristiche che vanno a definire le diverse categorie di stablecoin. Innanzitutto la collateralizzazione, ovvero come fanno a mantenere il legame con il dollaro, il cosiddetto PEG? Che cosa c'è dietro alle varie stablecoin? Poi abbiamo centralizzazione o decentralizzazione, ovvero c'è un'azienda che emette queste stablecoin e che si fa carico di tutte le responsabilità. Oppure abbiamo uno smart contract e una piattaforma DeFi che le emette, quindi qualcosa di automatizzato. Questa è un'altra domanda importante perché ha delle conseguenze anche lato regulation, lato proprio eventuali controlli, multe, insomma tutta quella parte un po' più anche legale che è veramente da non perdere di vista. Terzo punto la liquidità, ovvero quanta liquidità c'è in questa specifica stablecoin in giro? Perché detenere una stablecoin poco liquida tendenzialmente non è mai una buona scelta perché poi insomma dipende molto anche dall'obiettivo che uno ha nel volere sporsi a una stablecoin. L'obiettivo è scambiarla su un exchange, bene allora devo essere certo che su quell'exchange ci sia la stablecoin e ci sia un order book bello pieno, quindi che non vado poi ad avere un prezzo sfavorevole perché ho scelto di detenere una stablecoin poco liquida. Molto molto importante questo, quindi liquidità di solito è legata anche alla capitalizzazione. E una buona norma, ovviamente poi dopo aver fatto la disamina dei rischi, è scegliere una stablecoin che abbia una capitalizzazione maggiore, una liquidità maggiore. Poi abbiamo l'utilità, ovvero ripeto a che cosa mi serve espormi a questa specifica stablecoin? È per metterla a rendita su una piattaforma Cefai, su una piattaforma DeFi? È per detenerla su un exchange al fine poi di riacquistare cripto? Non lo so, dipende da che cosa ci voglio fare. Ed è in base a questo che la dovrò andare a scegliere. Ovviamente se voglio, faccio un esempio a caso, se voglio andare a mettere a rendita su una piattaforma di Cefai una stablecoin, devo scegliere una disponibile su quella specifica piattaforma. Sono cose ovvie, però deve essere un ragionamento fatto prima di scegliere appunto la stablecoin in questione. Un altro punto molto importante è la trasparenza e la regolamentazione. Questo è legato, se vogliamo, di più alle stablecoin centralizzate, ovvero quelle emesse da un'azienda. Perché? Perché queste aziende hanno degli obblighi. Non è che chiunque può mettersi a creare stablecoin dal nulla e dire fatti gli affari tuoi quando qualcuno gli chiede, insomma, che cosa c'è dietro, che processi utilizzano e quant'altro. Proprio perché sono aziende che gestiscono capitali, anche importanti di solito, e li tokenizzano emettendo appunto le stablecoin. Pertanto devono sottostare a tutte delle specifiche normative che sono molto in fase adesso di trasformazione. Con buona probabilità andremo incontro a un periodo fortemente normativo, proprio nei confronti delle stablecoin. E la trasparenza, diciamo, è una buona pratica, che dovrebbe essere a mio parere un qualcosa di fondamentale e indispensabile, ma credo che lo diventerà, ovvero il dire fammi vedere che cos'hai dietro a questa stablecoin. Cioè quali sono gli asset che la collateralizzano e che ti permettono di dire che se si vuole comunque fare il redeem dalla stablecoin al dollaro, o alla valuta che c'è dietro, è possibile farlo senza nessun problema perché non ti manca mai la liquidità. Questi sono i cinque punti fondamentali sui quali ragionare quando si esamina una stablecoin. Adesso andiamo quindi a vedere le specifiche categorie di stablecoin e come vanno a porsi nei confronti di questi cinque punti. Iniziamo da quelle più diffuse, ovvero le stablecoin completamente collateralizzate. Io qui ho messo da dollari, perché prendo come esempio le stablecoin legate al dollaro, ma se ci fossero quelle legate all'euro è la stessa cosa, chiaramente con euro. La prima caratteristica, vabbè, qui l'ho messa per seconda, ma visto che comunque è nel titolo, diciamola per prima, è l'avere collaterale in dollari o equivalenti. Questo equivalenti, diciamo che a volte l'emittente ci gioca un po' su, perché è complice la scarsa regolamentazione in alcuni stati, magari adesso in America stanno iniziando a mettere i puntini sulle i, ma in alcuni stati, magari esteri o offshore, dove solitamente hanno sede per motivi di, diciamo, agilità, usiamo questo termine, le aziende che emettono stablecoin, non ci sono particolari requisiti, no? Quindi abbiamo vissuto fino ad ora, praticamente, con stablecoin che non fanno degli audit ufficiali, ovvero non si fanno fare delle analisi del loro bilancio da fonti ufficiali, quindi che possono dire è un audit di fatto. A volte ci sono degli equivalenti fatti da delle aziende di accounting che però non valgono comunque come audit ufficiali, no? Fanno vedere, noi abbiamo questo, 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 certificato dall'azienda di accounting in questione, e questo è un po' il loro report di trasparenza. Diciamo che, idealmente, se dovessi immaginare proprio una situazione ideale di massima sicurezza possibile, ci dovrebbe essere un audit che sia, come dire, ufficiale e certificato dagli enti di vigilanza finanziaria, che dice tu fai l'audit con questo, 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 che sono quelli di cui, diciamo, io mi fido, io so che fanno le cose fatte per bene, e ci fai vedere quelli che sono gli asset che detieni, ok? Quindi questa è un po' la cosa più importante in assoluto, anche perché da qui poi si possono scatenare dei rischi, o meglio, se avessimo tutto in dollari, immaginatevi, vabbè, è molto facile da capire, tu fai il redeem della stablecoin, cioè da USDT o BUSD, USDC, qui ho citato queste tre che sono le più famose, vuoi convertirlo in dollari, lo puoi fare in rapporto uno a uno. Quindi il primo punto è proprio questo, cioè il PEG al dollaro è mantenuto grazie al collaterale in rapporto uno a uno. In qualsiasi momento tu puoi convertire un dollaro con una stablecoin e una stablecoin con un dollaro sul tuo conto corrente. Questo è ciò che mantiene il PEG. Il prezzo effettivo di una stablecoin è sempre dato da domande offerta, e questo è anche il motivo per cui prima abbiamo menzionato la liquidità tra i fattori importanti. Se una stablecoin è poco liquida è più volatile, anche se comunque ha il collaterale completamente che copre l'emissione delle coin stesse. Se ci fosse un periodo, l'abbiamo visto pochi giorni fa con USDT, si è visto in passato anche con, a volte con USDC, con BUSD, insomma un po' con tutte le stablecoin si è visto, momenti in cui o c'è un'estrema domanda, perché ad esempio quando Bitcoin crolla, se ci fate caso, molto spesso le stablecoin vanno a 1.01, 1.02, vanno over PEG si dice. Perché? Perché tutti le comprano vendendo Bitcoin. E allo stesso modo, quando ci sono dei casi, diciamo, particolari di emotività di massa, di solito è questo che scatena, abbiamo delle fasi di DPEG a ribasso, no? Quindi 0.98, 0.99, giù di lì. Se poi la stablecoin funziona bene, ovvero il meccanismo di redeem e tutto quanto, e la fiducia nella stablecoin in questione rimane, il PEG poi viene recuperato, perché capite bene che in una gestione ideale, dove dietro a un miliardo di stablecoin dollaro abbiamo un miliardo di dollari liquidi, non c'è motivo, e la certezza di poter fare il redeem, non c'è motivo di svenderla a 0.93, 0.92, perché andrei a realizzare una perdita ingiustificata. Allora piuttosto faccio il redeem 1 a 1. Ma infatti il PEG si recupera proprio da qua, dall'arbitraggio di uno che vede la coin a 0.93 e dice ma chi è il pazzo che la vende a 0.93? Compro io, ma ne compro talmente tante fino a riportare il prezzo a un dollaro, poi faccio il redeem e ricevo tanti dollari, quante stablecoin ho acquistato anche a 0.93, 94, 95 e così via, avendo quindi un profitto pressoché certo. Questo in un caso ideale, quindi nel caso in cui abbiamo tante stablecoin quanti dollari liquidi e quei dollari liquidi vengono dati all'utente in maniera istantanea e veloce, ok? Quindi il funzionamento ideale è questo. Dove si trovano i rischi, pertanto, visto che questo sembra un sistema perfetto, senza nessun tipo di rischio? Allora, i rischi sono tre. Il primo è legato alla trasparenza e alla gestione del collaterale dell'azienda che emette queste stablecoin, proprio perché, come vi dicevo prima, farsi carico comunque di miliardi di dollari liquidi che vanno detenuti su conti bancari e vanno comunque gestiti con contabilità e tutto quanto comporta delle spese importanti, no? Per l'azienda che lo fa. E non è che è un'azienda no profit che si mette a emettere stablecoin. Di conseguenza, quello che di solito fanno è investirle in asset che danno comunque una rendita, asset si spera a basso rischio, possono essere, ripeto, dei bond governativi, titoli di Stato e così via, con una parte sempre in cash, perché deve esserci la possibilità di fare il redeem in qualsiasi momento e questi asset vanno a definire il livello di rischio di questa stablecoin. Una stablecoin che ha, che ne so io, il 90% degli asset investiti in qualcosa di poco liquido e magari potenzialmente rischioso è da evitare come la peste, ok? Mentre l'ideale, ve l'ho detto, sarebbe una stablecoin 100% liquida sul dollaro, cosa che non credo neanche esista. Quindi il sapere che cosa c'è dietro, il sapere com'è composto il basket di asset detenuti dall'azienda che emette la stablecoin è di importanza fondamentale ed è la prima cosa da andare a verificare. Chiedendosi anche, ogni quanto vengono emessi report di asset detenuti, che affidabilità hanno questi report, chi è che li fa? Andiamo a vedere, informiamoci anche sull'accounting firm che fa questi report, visto che nessuno fa ancora audit ufficiali. E questa è un po', appunto, ripeto, la prima domanda, nonché il primo rischio. L'altro rischio principale è legato alla centralizzazione. Essendo stablecoin emesse da Tether Limited, da Binance, da Circle, nel caso di USDC, abbiamo delle aziende, queste aziende possono fare illeciti, sono comunque gestite da persone e in quanto tali possono fare cose, nel senso, possono essere accusate di frode, possono andare in bancarotta, cattiva gestione, tutta una serie di, appunto, conseguenze legate alla mala gestione o mala operatività, che poi hanno inevitabilmente una ricaduta sugli utenti finali. Perché, se dovessero fare causa ad una di queste aziende, dicendogli adesso interrompete subito l'operatività, finché non vi facciamo un'indagine dall'A alla Z, già mi immagino il panico che si scatenerebbe, quindi questo è fondamentale da tenere in considerazione. Il rischio zero, ahimè, non esiste. Bisogna mettersi l'anima in pace. Anche con le stablecoin non esiste ancora uno standard sufficientemente puro, pulito, da dire siamo a rischio zero, proprio perché ci sono ancora regolamentazioni in fase di creazione, non ci sono obblighi totali di trasparenza al 100% e di audit continui. Possiamo dire che, basandoci sulla trasparenza, sui dati storici, nonché sulla volatilità storica, quella stablecoin, che si è dimostrata più resistente, meno volatile, più trasparente, e quindi possiamo dire a minor rischio delle altre, ad ora è USDC, nonché anche BUSD. Queste ultime sono emesse da aziende, in particolare Circle, che è un'azienda di Coinbase per USDC, e Paxos, nel caso di Binance, che è un'azienda di nuovo regolamentata negli Stati Uniti, anche nel distretto di New York, la stessa che dà la liquidità a PayPal, per capirci, sulle cripto, e pertanto diciamo che queste sono le scelte ritenute meno rischiose per un tema di trasparenza, di collateralizzazione maggiormente liquida, e di azienda alle spalle, che ha sede negli Stati Uniti, è regolamentata negli Stati Uniti, e quindi rispetta, diciamo, il massimo livello di standard attualmente disponibili nel settore. USDT è la più utilizzata, è la più grande, è quella a maggiori volumi, ha sempre rispettato le Redemption, tuttavia molti la vedono male, proprio per la scarsa trasparenza che a volte ha avuto in passato, adesso non voglio creare panico, non voglio dire che è insolvente o chissà che cosa, dico solo i fatti che sono avvenuti, in passato ci sono state un po' di peripezie, sicuramente stanno facendo di tutto per migliorarsi, adesso anche loro pubblicano periodicamente dei report della loro collateralizzazione, mostrano quello che hanno, e proprio in questi ultimi giorni di panico, che c'è stato un po' di de-peg anche su USDT, hanno processato in maniera fluida e immediata le loro Redemption, tuttavia la sede non è negli Stati Uniti e qualcuno ancora non la vede di buon occhio, queste tre sono comunque le più capitalizzate tra quelle collateralizzate da dollari. Andiamo avanti con la seconda categoria, le stablecoin sovracollateralizzate da asset volatili, queste tendenzialmente sono decentralizzate, sono stablecoin DeFi, native DeFi diciamo, proprio perché noi tramite delle DAP come ad esempio DAI, cioè Oasis per DAI oppure Abracadabra per Meme, le andiamo a creare o distruggere. La creazione di DAI significa io vado a depositare Ether o altri comunque collaterali e RC20 sulla piattaforma e vado a creare dei DAI per un controvalore diciamo del 50% del mio collaterale, quindi se deposito 5000 dollari in Ether creerò 2500 DAI, nel momento in cui restituisco i miei 2500 DAI sblocco il collaterale e basta e torno indietro, ok? Questa è la dinamica. Nel momento in cui il collaterale perde di valore c'è il rischio di andare a far sì che il collaterale valga meno dei DAI circolanti e se fosse così la piattaforma avrebbe dei debiti, no? Quindi diventerebbe insolvente, non deve avvenire, quindi deve esserci un meccanismo di liquidazioni che funzioni alla perfezione, a cui non sfuga nulla. Se non liquida c'è il rischio di contrarre del debito da parte della piattaforma. Pertanto liquidazione è assolutamente fondamentale, la sovracollateralizzazione è assolutamente fondamentale perché altrimenti appunto i collaterali sono volatili e c'è un rischio estremo di insolvenza e l'altra caratteristica ripeto è la decentralizzazione. La decentralizzazione fa sì che non ci sia l'azienda che in sostanza nel caso 1 abbiamo detto ci dobbiamo fidare dell'emittente. C'è poco da fare, si può riassumere il tutto come ti devi fidare di chi emette la stablecoin. Nel caso 2 ti devi fidare di chi ha sviluppato lo smart contract perché lo smart contract potrebbe avere dei bug, potrebbe avere dei problemi di sicurezza, potrebbe funzionare male e ci sono tutti questi rischi tipici anche della DeFi sono i rischi che abbiamo visto nei nostri corsi di DeFi. Inoltre c'è un'altra categoria di rischio data proprio dal collaterale volatile. Durante le fasi di shock di mercato supponiamo che Ethereum ti fa un meno 60% in un giorno immaginiamoci un caso di estrema volatilità ribasso ci sarebbero una marea di liquidazioni a catena proprio perché abbiamo un dimezzamento del valore quindi chi ha preso un prestito magari vicino alla soglia e rischia la liquidazione con un dump così si fa liquidare questo può generare un effetto a cascata liquidazione che a sua volta vende del collaterale per ripagare il debito che fa abbassare il prezzo del collaterale quindi liquidazioni a catena in continuazione questi stress test diciamo ce ne sono stati in passato su DAI possiamo vedere ma anche su MIM che sono le due più capitalizzate le ho scelte soltanto per questo e per ora sono andati bene diciamo che DAI si è comportato estremamente bene anche in quest'ultimo periodo di sfiducia verso le stable coin e di esodo dalle stable coin ha perso il 20% di capitalizzazione quindi sono stati distrutti più di un miliardo di DAI e il PEG è stato mantenuto in maniera pulita il fatto che ci sia sempre del collaterale che vale di più della quantità di stable coin emesse fa sì che insomma il PEG abbia senso perché se in qualsiasi momento io posso andare a trasformare queste stable coin nel collaterale che c'è dietro allora io sono tranquillo che il sistema funziona tuttavia devono esserci i giusti parametri che mantengono la stabilità su DAI c'è tutta la sua stability fee si chiama proprio decisa dalla governance in base alla domanda all'offerta quindi ci deve essere dietro un sistema che fa sì che anche durante le turbulenze e andando quindi ad adeguarsi alle diverse fasi di mercato si abbia una stabilità perché se la stable coin perde la sua stabilità perde completamente di senso come livello di rischio la mettiamo al secondo posto perché ovviamente come le stable coin totalmente collateralizzate non ce n'è sono quelle a rischio minore al secondo posto ci sono quelle sovracollateralizzate proprio perché c'è dietro del collaterale quel collaterale vale più del circolante delle stable coin e quindi finché permangono queste condizioni e quindi il sistema deve far sì che tutto funzioni alla perfezione abbiamo la possibilità di redemption e quindi l'incentivo di fare l'arbitraggio che riporta le stable coin al valore di un dollaro andiamo avanti con un rischio ancora sensibilmente più alto più andiamo avanti più aumentiamo il rischio le stable coin parzialmente collateralizzate qui abbiamo frax come esempio non so se l'avete studiata è un caso studio molto interessante per la defy lo sto approfondendo anch'io perché ve lo volevo portare poi sul canale proprio a tema di ricerca e sostanzialmente frax ha parte del collaterale solido tra virgolette ovvero in asset no in cripto in altre cripto e parte algoritmico o meglio del suo token nel caso di frax frax ha la stable coin frax si chiama il token fxs poi tutto il collaterale gestito da frax quello che viene dato proprio per creare le stable coin frax lo mette a rendita in varie piattaforme defy quindi frax infatti penso che prenda il nome dal concetto di riserva frazionaria il fatto di far rendere la liquidità che c'è dietro che poi viene distribuita in qualche modo ai detentori del token fxs si crea dell'utile per il protocollo questo è un po' una banca nella defy si stanno creando questi nuovi modelli di banche che sono tutte in fase clamorosamente sperimentale interessante seguirle studiarle ma vanno approcciate sempre con estrema cautela quindi abbiamo capito che c'è una parte di collaterale quindi viene da pensare nel caso peggiore diciamo che si svaluta perde il peg arriva al valore del collaterale solido iron finance per capirci vi ricordate era collateralizzato al 75% da usdc al 25% dal token dal loro token e il loro token si è svalutato a causa di bank run e alla fine è andato a pegare a 0,75% quindi quello è un po' teoricamente il worst case scenario a patto che il sistema di redemption funzioni sempre bene e questo vale anche per le parzialmente collateralizzate quali sono i rischi? beh i rischi sono quelli che abbiamo visto prima per quelle sovracollateralizzate ma abbiamo dei rischi aggiunti ovvero dei rischi di imprevisti dati da shock di mercato quindi che si va a scatenare una bank run e il valore del loro token va da 0 da ampi rapidamente talmente tanto rapidamente da innescare quella spirale che va a far calare sempre di più il prezzo sia del token in questione che della stablecoin quindi ci deve essere di fatto un sistema che vada ad arginare queste fughe di capitale quando si parla di stablecoin totalmente o parzialmente algoritmiche si parla di mitigare i rischi con due metodi il primo è il contenimento delle fughe di capitale e il secondo è il creare domanda ovvero questa stablecoin deve avere dei casi d'uso deve essere largamente utilizzata solo in questo modo si andrà a creare domanda sufficiente per bilanciare la fuga di capitale evitando la bank run sono tutte molto sperimentali e di conseguenza i rischi sono comunque alti perché il detenere una stablecoin parzialmente collateralizzata implica esattamente questi rischi che abbiamo visto andiamo avanti con l'ultimo livello sono le stablecoin completamente algoritmiche basate su signoraggio elasticità o su un loro token mi viene in mente quella di Tron no usdd che adesso è molto come dire dibattuta perché ci si chiede ma farà la fine di usd che differenze ci sono stanno cercando di collateralizzarla no per evitare proprio di fargli fare la fine di usd che ha avuto un problema di eccesso di crescita no prima di avere sufficiente sufficienti metodi difensivi perché se magari avessero avuto dei metodi per limitare la fuoriuscita di capitale tutte in una volta e per andare a migliorare l'efficienza del sistema di arbitraggio sarebbe potuta andare diversamente e quindi diciamo che usdd sta provando a mettere in campo queste contromisure prima di crescere troppo l'altra che ho citato è neutrino usd che è usdn quella di waves per capirci che anche lei è basata su waves l'unico collaterale che ha è proprio waves e di conseguenza diciamo che se si innesca quella spirale di sell off di waves per andare a fare il redeem e poi andare a rivedere cioè insomma quella spirale che fa vendere tutto cioè di uscire uscire fuori dalla piattaforma si va a creare la bank run cosa che alla quale è andata vicino poi è stato arginato questo con delle contromisure di emergenza che hanno funzionato temporaneamente diciamo che non è una maestra nel mantenere il peg usdn però diciamo che finora è rimasta in un intervallo di tolleranza abbastanza ampio ma senza quindi innescare la bank run qui i rischi sono lo shock di mercato ovviamente cioè se ci sono delle condizioni di estrema offerta c'è il rischio di andare in bank run il dump veloce del token che è legato esattamente a questa medesima cosa e poi i rischi legati proprio all'infrastruttura quindi allo smart contract e quant'altro ripeto ogni stable una stable coin puramente algoritmica quindi senza collaterale ha rischio molto alto il rischio lo si va a mitigare andando a creare delle contromisure che vanno a appunto limitare la fuoriuscita di capitale che vanno a far sì che ci sia sufficiente domanda per questa stable coin che sia sufficientemente distribuita nel mercato e pertanto che si possa definire con use case reali diciamo questo e questo è quanto sono tutte le categorie di stable coin prima di terminare un'ultima osservazione importante da capire perché questo è il rischio di cui abbiamo parlato ora è legato alle specifiche stable coin ma se noi andiamo a utilizzare queste stesse stable coin in piattaforme DeFi o Cefai ricordatevi che si vanno a sommare anche i rischi legati alle piattaforme stesse quindi se depositiamo USDC in una piattaforma DeFi rischiosa non è che perché USDC ha quella a minor rischio allora il rischio rimane basso quindi c'è questa composizione diciamo dei rischi tra la stable coin e la piattaforma sulla quale la impieghiamo sono cosciente del fatto che non le abbiamo elencate tutte ho preso le più capitalizzate so che c'è ad esempio quella di Near quella del mondo Polkadot ce ne sono tantissime di stable coin e potremmo andare avanti per ore esaminare tutti i loro funzionamenti se ve ne interessa uno in particolare ditemelo che la andiamo ad approfondire insieme lo scopo di oggi era tra virgolette banalmente andare a capire le diverse categorie totale collateralizzazione sovracollateralizzazione ma con asset volatili parziale collateralizzazione e non collateralizzazione ad eccetto di un token alla quale è legata in maniera algoritmica ognuna ha i suoi rischi ognuna ha i suoi benefici perché tendenzialmente quelle a rischio maggiore sono accompagnate da un ecosistema DeFi che cerca di mantenere viva la domanda offrendo incentivi maggiori bisogna sempre farsi la famigerata domanda vale la pena assumersi un certo rischio per ottenere un certo rendimento e lì viene in campo la valutazione personale vi faccio un carissimo saluto e alla prossima grazie a tutti